Buongiorno a tutti ragazzi, ben arrivati. Scusate Riccardo ma stavamo finalizzando un paio di informazioni e assistenza tecnica grazie all'aiuto anche del collega dell'IT. Anche per quest'anno, anche per questa occasione la faremo in online. Spero vivamente di poter tornare fisicamente insieme a Alessia in università potervi incontrare di persona uno a uno perché secondo me il contatto umano fa sempre la differenza però cercheremo comunque anche in questa occasione di provare a trasmettervi quello che è un po' il nostro sentiment, a trasmettervi i nostri valori e a cercare di farvi capire un po' il ruolo del professionista all'interno di uno studio strutturato come quello dello studio Pirola. Non so quanti di voi ci conoscono o quanti no, faccio però una breve recap dello studio abbiamo deciso di non condividere presentazioni perché la colpa è solo mia, non di Alessia ma perché a me piace parlare a ruota libera e in base anche un po' alle vostre domande cercare di essere un po' più interattivo rispetto un po' alle classiche presentazioni standard e un po' monotematiche per cui man mano intervenite pure nell'eventualità intanto io comincio a rappresentarvi lo studio Pirola che è uno tra i principali studi di consulenza fiscale legale operiamo in dieci sedi in Italia, abbiamo tre nostri diretti sedi all'estero e altri corrispondenti in giro per il mondo, siamo circa 500 professionisti che operano in svariati settori principalmente i due filoni principali sono l'ambito fiscale e l'ambito legale e all'interno di ciascuna struttura quindi il fiscale legale abbiamo poi delle specializzazioni la cosa importante che ci contraddistingue rispetto alle Big Four visto che siamo dimensionalmente grandi come loro è l'approccio metodologico il nostro DNA, i nostri valori prevedono una formazione sin dall'origine per tutti i ragazzi e per tutti noi che siamo all'interno della struttura a 360 gradi una formazione che prevede una conoscenza e un affiancamento al professionista che ci porta noi professionisti a formare i giovani su tutte le attività tipiche e richieste dal cliente questo significa che non abbiamo delle business line come appunto le Big Four ma tendiamo a farvi conoscere quello che è la fiscalità e la parte legale delle attività in modo da cominciare a capire l'insieme, cominciare a conoscere le varie tematiche che caratterizzano l'azienda durante il suo percorso di vita questa strategia o questa diciamo se volete volontà che abbiamo deciso sempre di continuare a portare avanti sin dalla costruzione dello studio è finalizzata al fatto che è necessario che la persona acquisisca una visione di insieme delle problematiche, acquisisca una visione insieme delle tematiche per poi poter andare ad approfondire e interagire l'una con l'altra questa generalizzazione per alcuni di voi potrebbe sembrare un po' superficiale o il tuttologo di turno in realtà viene meno con l'andare avanti della professionalità all'interno della struttura quindi sempre man mano che crescita a livello di esperienza e a livello di seniority si va creando una specializzazione e noi oggi questa specializzazione abbiamo sulle figure apicali della struttura perché hanno una visione completa ma sono anche in grado di potersi specializzare su alcune tematiche quindi abbiamo dei centri di eccellenza e questo è un po' il nostro punto di forza per cui il cliente generalmente si rivolge a noi perché sa che da noi può trovare le varie specializzazioni con professionalità alto e sa che può trovare però risposta a quasi tutti i suoi quesiti noi abbiamo molte specializzazioni all'interno dello studio che avendo tanti professionisti ci consente di spaziare dal diritto dell'aeronautica alla pubblica amministrazione alla strada giudiziale allo stragiudiziale all'emenei alla valutazione di azienda quindi con tutto il mondo corporate al tema accountant al tema consulenza fiscale nazionale e internazionale al contenzioso tributario la lista poi se volete curiosare sul sito potete andarla a vedere e di vedere di riferimento i vari professionisti questo è secondo noi un grosso valore aggiunto per voi sicuramente perché vi consente di avere una formazione a tutto tondo per arrivare all'esame di stato è un valore aggiunto per il cliente perché ha sicuramente sempre un professionista di riferimento che conosce le varie tematiche a cui può chiedere supporto ed è un punto di forza per lo studio perché questa cosa consente di poter applicare le varie expertise fatte sul cliente negli anni anche ad altre tematiche e quindi consente allo stesso professionista di poter collaborare e condividere con gli altri colleghi all'interno dello studio quelle che sono le esperienze maturali. come vi dicevo siamo tanti ma ci consideriamo un po' una grande famiglia viviamo insieme, abbiamo un ottimo clima di condivisione e riteniamo che questo è uno dei punti, un altro dei punti di forza dello studio abbiamo bisogno comunque di condividere, di perseguire il fine comune che è quello di far crescere lo studio la struttura è una struttura che diciamo si basa su un concetto di struttura piramidale dove appunto ci sono le varie figure con le varie seniority che rispondono ai vari professionisti e con i stessi professionisti interagiscono direttamente con il cliente. Poi per quanto riguarda tutta la parte formazione e la parte eventualmente di attività collaterali lascerò poi la parola ad Alessia e alla mia collega per spiegarvi meglio anche tutte le attività che facciamo di investimento sui ragazzi e quindi ma anche sui professionisti se volete un altro aspetto particolare forse dello studio è un po' atipico rispetto alla vostra cultura essendo una generazione che tende spesso alla ricerca e al cambiamento è quella invece di una crescita interna e di una tutela dei professionisti interni rispetto al mercato esterno provo a spiegarmi meglio io sono vent'anni che sono in studio e sono cresciuto all'interno dello studio le figure apicali all'interno dello studio oggi sono tutti i professionisti che hanno fatto la loro carriera all'interno dello studio e questo immagino che sentendomelo dire vi fa venire briviti pensando appunto a una carriera esclusivamente all'interno di una struttura sempre nella stessa chiaramente la cultura è cambiata è cambiata con le generazioni ed è per questo che vi dicevo prima del cambio di generazione legato al fatto che chiaramente la vostra generazione è più propensa a un cambiamento più frequente rispetto a quella del passato come HR condivido anche se ritengo che sia importante da parte vostra soprattutto su una professione che richiede un'iscrizione, un'abilitazione e un percorso andare a completare questo percorso e quindi è necessario che questa attività venga fatta in modo un po' costante nel tempo almeno all'interno di una struttura perché altrimenti l'eccessivo cambiamento il frequente cambiamento mi consente sempre di vedere solo una parte di quel percorso perché comunque come vi dicevo prima c'è una parte di investimento c'è una parte di formazione c'è una parte di affiancamento e quindi c'è un percorso che vi porta chiaramente sempre più spesso a vedere delle varie fasi delle varie spaccettature quindi secondo me, secondo lo studio è importante che questo percorso venga eseguito in modo un po' costante nel tempo perché è chiaro che i primi mesi non entrerete forse subito in contatto con i clienti ma successivamente sì il primo anno avrete la possibilità di essere pian piano sempre più autonomi sul secondo di potervi abilitare sul terzo di crescere professionalmente ma di cominciare ad acquisire anche un'expertise per un'eventuale gestione anche delle risorse quindi gli eccessivi frequenti cambiamenti vi fanno perdere parti importanti di questo io lo chiamo film ma in realtà di questo vostro percorso ed è il motivo per cui vi consiglio in qualunque scelta vogliate fare in futuro se continuate poi la libera professione il campo legale o il campo fiscale di cercare di costruire almeno un percorso che ha una durata temporale quanto sarete voi a decidere in base all'expertise che avrete e all'interno della struttura dove andrete a operare questo ve lo dicevo perché la nostra cultura prevede appunto una crescita interna a livello di professione e una crescita chiaramente basata su questo importante dirlo una crescita basata non tanto sull'anzianità ma sulla meritocrazia e quindi sulla capacità di poter crescere all'interno della struttura per rendersi autonomi saper gestire il cliente saper gestire i colleghi e i collaboratori ma per chi è dentro quindi parlo di me ma come di tutti gli altri colleghi che lavorano con me se volete la cosa importante è la sicurezza di avere o comunque la tranquillità di poter essere giudicato e valutato senza interferenze esterne legate a interventi o assunzioni o diciamo inserimento più corretto di professionisti questo che cosa significa? che lo studio Pirola in realtà cerca ragazzi, giovani come voi da poter inserire per poter investire su di loro farli crescere all'interno della struttura e dare un futuro alla struttura stessa con quello che sarà un po' il cambio generazionale non prevede e non ha mai previsto fino ad oggi inserimenti di figure con expertise già provenienti da altri studi e che hanno una professionalità questo per tutelare chi nel tempo ha investito e creduto nella struttura quindi era il motivo che vi dicevo della crescita interna cioè per chi nel tempo ha sempre voluto portare avanti lo studio e quindi non deve essere poi se volete schiacciato professionalmente o limitato personalmente o comunque avere diciamo tematiche di crescita professionale a seguito di interventi da parte di terzi questa scelta è stata nei tempi condivisa da alcuni criticata da altri ma immagino anche ognuno di voi faccia poi delle riflessioni su questa cosa scelta giusto o sbagliata non lo so e sicuramente ce lo dirà il tempo fino ad oggi il tempo ci ha dato ragione cioè chi come me lavora da vent'anni si sente come vi dicevo prima in una famiglia si sente protetto si sente che può costruire qualcosa per il bene dello studio e per la continuità dello studio a livello lavorativo oggi spiegarvi esattamente cosa fa un professionista è sempre molto complicato questo sono anni che tento ogni volta che c'è un evento di provare a trasferirvi quello che è un po' l'attività l'approccio la sensazione quello che posso dirvi è sicuramente che è una una professione dove la noia rimane fuori dalla porta dove c'è un'alta attenzione sul cliente dove vivete con il cliente esperienze importanti dove avete la possibilità di crescere professionalmente sicuro perché è una struttura che vi dà molto e il mercato la riconosce come tale a livello di formazione ma che richiede anche tanto e questo è un po' il mondo del mondo degli studi professionali però secondo me vi dà tanto ve lo dico con le esperienze vissute ieri sono stato contattato da un amministratore delegato che per vent'anni ha operato in un'azienda che ho sempre seguito mi ha chiamato per ringraziarmi per dirmi che nel nostro percorso insieme sono stato in grado di consigliarlo che sono stato in grado addirittura di cazziarlo mi ha raccontato degli aneddoti e mi ha chiesto mi ha detto che era contento di questo perché ha vissuto questa esperienza come un'esperienza umana ma non distaccata come quello che è il vero professionista che dovrebbe affiancare il cliente nei momenti difficili nei momenti importanti quindi quando si tratta di portare il professionista quando scusate si tratta di portare l'azienda all'estero per farla crescere per potarla in quotazione come quando ci sono i momenti tricky i momenti complicati come l'accesso alle guardie di finanza piuttosto che le tematiche di contenzioso importanti situazioni di concordati cioè di esperienze ce ne sono molte sicuramente almeno la mia riflessione importante è che queste parole dette da questo amministratore come da altri che in passato ho avuto modo di con cui ho avuto modo di collaborare danno sicuramente una carica a far sì che questa professione debba continuare in modo giusto e con questa convinzione io sono molto rispettoso come tutti all'interno dello studio di quello che sono i rapporti umani ma sono altrettanto attento come tutti i soci dello studio al rispetto alle regole della collaborazione quella che vi dicevo e vi ricorderò poi nei colloqui insieme ad Alessia one to one lo studio è come se fosse casa vostra e come tale deve essere rispettata ci deve essere un rispetto per un cliente un'attenzione un just in time nelle risposte una condivisione delle informazioni quindi è importante assolutamente creare quella giusta ambiente che poi porta al successo del professionista ma al successo del cliente vi ricordo che per quanto lo studio posso darvi tutto quello che è il meglio la vera verità il vero successo dipende da come voi riuscite a sfruttare sfruttare una parola tra virgolette insomma come riuscite ad accogliere le opportunità che il cliente vi può dare e quindi a farvi crescere professionalmente questa è la vera se volete percezione della libera professione non vi nascondo a livello come vi dicevo operativo è difficile raccontarvi la giornata tipo perché secondo me non esiste una giornata tipo un professionista arriva in studio con tutte le buone premesse vi posso assicurare che nonostante gli anni mi impegno anch'io ma alla fine è veramente complicato rispettare quelle che sono un po' gli impegni che uno si prefigge la mattina presto perché il professionista è anche colui che interviene in situazioni non prevedibili o in in riunioni non prevedibili a volte c'è il cliente che chiama perché c'è un'urgenza al cliente che chiama perché c'è la guardia di finanza piuttosto che c'è una priorità che lo studio ha bisogno di un supporto anche da parte nostra e su questo mi preme dirvi che c'è un altro aspetto importante che è quello della condivisione o del cross-selling come vogliamo chiamarlo ma sempre semplicemente o più banalmente dello stare sul cliente anche con figure diverse in questi giorni sto completando una due diligence su un mio cliente insieme a me ci sono persone che hanno una cultura labor hanno una cultura legale c'è gente che fa valutazioni d'azienda quindi siamo tutti intorno a un tavolo per cercare di portare il risultato al cliente che ci ha chiesto supporto e questa è sicuramente un'occasione per maturare per capire per avere una visione anche su tematiche che non sono poi di vostra pertinenza o di vostra competenza che però vi aiuta ancora una volta a realizzare quello che vi dicevo sia una visione d'insieme della struttura e soprattutto della professione e soprattutto del cliente cioè sono degli aspetti sicuramente importanti e vincenti che vi possono aiutare a diventare quel grande professionista che vorreste diventare e quindi questo è sicuramente un aspetto su cui però dall'altro lato della medaglia c'è il tema dell'investimento e a volte purtroppo anche un po' delle difficoltà perché chiaramente tutto questo richiede dei sacrifici però è anche vero che senza quelli il successo sarebbe durerebbe poco e verrebbe poco apprezzato detto questo quindi la giornata tipo tornando un attimo a cercare di descrivere quella che la giornata tipo è sicuramente difficile da dire ma questo è anche come vi raccontavo prima il bello della diretta ossia il bello della impossibilità o della monotonia che un lavoro può portarvi ci sono alcune persone che scelgono la professione non conoscendo bene quelle che sono le conseguenze risvolti o gli impegni ma convinti che questa professione sia una professione che sicuramente non li fa annoiare rispetto al mondo aziendale rispetto ad altre attività non posso chiaramente far paragoni perché non conosco nello specifico il mondo aziendale se non da consulente esterno quello che però vi posso sicuramente assicurare dopo vent'anni di attività è che nella nostra professione la monotonia come vi dicevo già prima è impossibile da percepire questo è l'adrenalina che vi dà la forza di andare avanti tutti i giorni è la forza che vi dà comunque di affrontare la giornata anche quelle più difficili di poter discutere in udienza per difendere un cliente di poter condividere col cliente tematiche che comunque sono molto sensibili l'ultimo caso che sto affrontando in questo momento stiamo seguendo un contenzioso grosso su un imprenditore che ha anche un procedimento penale e quindi potete immaginare quelle che sono le situazioni di tensione beh è proprio in questo momento che bisogna stare più vicino al cliente e il cliente stesso mi ha comunicato dice guarda Luca certe decisioni le voglio condividere con te per poter andare avanti quello che mi dici cercheremo di fare insieme nel rispetto delle regole ma cerchiamo di far sopravvivere l'azienda questa questo è sicuramente una cosa molto importante che ancora una volta secondo me gratifica chi è da quest'altra parte ma dà anche una responsabilità importante al professionista di fare le scelte giuste anche per il cliente non solo per lo studio quindi diventa ancora una duplice impegno però è anche ancora una volta un expertise una capacità di poter affrontare al meglio e vivere al meglio queste situazioni quindi raccontarvi ed è per questo che vi dico che è per me impossibile dirvi la giornata tipo è sicuramente una giornata che prevede una condivisione delle tematiche con il cliente e con il nostro responsabile diretto è una giornata che prevede sicuramente una serie di imprevisti ma che portano sicuramente una grande gratificazione al termine dello svolgimento di questi è una giornata che comporta una formazione soprattutto per voi una crescita continua professionale che vi darà modo di vedere che l'università vi ha dato sicuramente delle basi importanti ma la vita vera è un altro film e quindi vi completerà l'esperienza pratica sul campo perché a noi piace lavorare così ci piace lavorare sia sulla parte teorica perché il professionista deve avere le competenze ma ci piace anche che il professionista sappia interagire col cliente sappia affrontare tematiche e ad alcuni di voi in passato durante i colloqui mi dicevano a una domanda ma scusami ma se arriva il cliente in questa sala di riunioni come affronteresti la tematica la risposta è ma tanto mi faccio dire dal cliente la domanda prima così quando arrivo sono preparato no non è così non è assolutamente così la vera verità è che spesso vi trovate in riunioni dove non conoscete l'argomento e dovete poter gestire il cliente l'argomento dovete cercare di trasferire al cliente una tranquillità tale da poter affrontare l'argomento cercando di risolvere e avere il tempo di approfondire comunque la parte tecnica perché non si possono assolutamente dare risposte senza aver verificato tecnicamente la fattibilità di tale risposte ma la difficoltà di poter capire e cercare di affrontare insieme al cliente quello che possono essere gli sviluppi di quel tema e quindi non esiste tra virgolette non è come l'esame che prepari l'argomento e lo discuti cioè in una sala di riunioni col cliente l'argomento è un argomento a piacere ma lo decide il cliente l'argomento a piacere e quindi se volete la difficoltà è proprio questa però è altrettanto gratificante questo vi assicuro che su questo ho la certezza dopo vent'anni che tutte le persone che sono in studio e che sono passate allo studio hanno maturato e un'esperienza professionale tecnica che oggi le porta nei ruoli importanti o meno importanti di immagine o meno di immagine ma chiunque è passato dallo studio ha sicuramente un buon ricordo dello studio ed ha una riconoscenza dello studio per le competenze professionali che è acquisito in questo studio ed è il motivo per cui continuiamo a voler comportare avanti anche con le nuove generazioni quelli che sono poi i valori guida dello studio e questo è un po' il vero motivo bisogna assolutamente continuare a condividerli a investire sulle risorse e quindi parlare anche di attività di formazione sempre e comunque però quello che chiaramente io a Alessia vi chiediamo poi in una fase di colloquio è la convinzione della scelta della libera professione perché attenzione io sono il primo insieme ad Alessia ad allontanarvi o comunque a cercare di disincentivarvi nel caso in cui tali certe scelte non siano convinte da parte vostra questo ve lo dico in modo spassionato e che va contro i miei interessi se non siete convinti di fare questa professione state attenti perché vi fate male vi fate male nel senso che rischiate di perdere tempo rischiate di avere un'esperienza negativa e rischiate però di partire demotivati il primo lavoro è un lavoro che si ricorda sempre con piacere è un lavoro che ti dà una grande la andare avanti e quindi il nostro impegno da parte mia di Alessia è anche quello di capire meglio e di convincervi a capire qual è il vostro percorso ideale anche a scapito dello studio noi abbiamo bisogno di gente motivata carica anche se non conosce come giusto che sia quello che consiste la libera professione ma di gente capace e che vuole avvicinarsi al mondo fiscale o legale sa che dovrà purtroppo studiare quasi tutti i giorni sa che dovrà affrontare la giornata forse non sapendo appunto come dicevo prima quella che è la giornata tipo ma sa però che rappresenterà uno studio importante sul mercato che avrà una clientela di primo piano che però deve portare avanti con il suo impegno professionale la sua dentologia e quindi con la tempistica giusta è importante ricordarvi che chiaramente la tempistica nel nostro lavoro è fondamentale e non si può esimere dal dire che questo vi porta poi chiaramente come conseguenza come vi dicevo prima a un impegno ci sono giornate in cui l'impegno è costante ma non non presenta picchi e giornate in cui ci sono dei closing in cui impegno richiede veramente una una non stop vi ricordo però vi ho già detto prima ma lo ridico in modo molto chiaro c'è sempre e comunque rispetto di quello che è la vita personale è chiaro che in certe situazioni si richiede un sacrificio necessario per poter chiudere quel lavoro ma sia per voi che per il cliente questo non significa che siete destinati a fare a lavorare H24 in assistenza qui non si cerca chi fa tante quantità di ore in ufficio si cerca chi porta a casa l'obiettivo non siamo aziende lo studio non è fondato sulle quantità di ore di chi sta davanti a una scrivania cerca professionisti che sappiano essere pragmatici che sappiano essere competenti e portare a casa quello che è il risultato per il cliente e la soddisfazione del cliente stesso questo è un po' quello che siamo e quello che vogliamo continuare a essere anche grazie al vostro supporto siete tantissimi collegati per me è un'emozione forte ogni volta vedere che ci sono un sacco di gente che nonostante tutto vuole avvicinarsi al mondo della libera professione e allo studio Pirola sono ben felice e spero di non avervi annoiato in questo monologo ma ripeto l'intenzione era quella di provare a trasferirvi quello che è la passione che dopo vent'anni ancora sento e vivo e trasferirli a persone che chiaramente non conoscono il mondo non studio Pirola non conoscono l'aspetto della libera professione adesso lascerei la parola ad Alessia che magari fa un po' di presentazione anche sul resto delle attività che potrei essermi perso quali la formazione quali un po' le attività anche sull'estero piuttosto che altre attività e poi siamo assolutamente a disposizione per rispondere alle vostre domande in modo da rendere un po' meno noiosa questa presentazione un po' più attiva con voi tanto avete la fortuna di avere la chat e quindi no problem possiamo provare a darvi riscontro Alessia ti lascerei la parola parlando anche magari del tema colloqui percorso eccetera intanto ciao a tutti ciao a tutti sono Alessia di un gruppo di ricerca e selezione all'interno dello studio probabilmente ho anche già parlato con qualcuno di voi partiamo dalle cose molto pratiche allora innanzitutto un po' appunto la presentazione che avete avuta vorrei parlarvi un po' del tirocinio nel senso che come vi ho anticipato prima il dottor Neri la maggior parte se non il 99% di risorse che entrano in studio sono figure junior quindi ho appunto candidati che decidono di fare i sei mesi pre laurea quindi di anticipo della pratica con la convenzione per poi appunto non avere la prima prova io ovviamente vi parlo di condizioni normali senza covid poi adesso vediamo come si svolgerà il tutto oppure appunto di candidati che iniziano direttamente i 18 mesi post laurea noi siamo apertissimi a entrambe le opzioni quello che mi capita spesso ma che rimando molto la palla a voi è il fatto di cosa fare quando ovvero noi abbiamo ragazzi e ragazze che hanno sono entrati appunto facendo i sei mesi pre laurea con tre esami e la tesi sono riusciti a fare tutto ovviamente con dei mesi tosti e di sacrifici però con ottimi risultati molto contenti che poi appunto hanno proseguito il percorso sempre con noi ci sono state persone che nelle stesse condizioni dopo due o tre mesi hanno deciso di abbandonare per appunto il carico di lavoro l'ansia stress tutto quanto e ci sono persone che appunto decidono di fare il 18 direttamente dopo sentitevi assolutamente liberi nel senso che noi non facciamo non privilegiamo una scelta piuttosto che l'altra o riteniamo una persona migliore piuttosto che un'altra cioè ci teniamo che ci sia continuità quindi non purtroppo non facciamo quegli stagi diciamo tre mesi dopodiché ci stoppiamo e poi per sei mesi non vediamo le risorse e la vediamo per diciamo proseguire dopo la laurea se decidete di entrare in studio lo studio prevede appunto la pratica in maniera continuativa poi con le formule non so prima il tirocinio curricolare poi lo trasformiamo in pratica quello non c'è problema però se fate i sei più i dodici ci teniamo appunto che ci sia continuità con al massimo un paio di settimane di stop se appunto dovete terminare delle parti burocratiche la tesi consegna preparazione quello che è però che ci sia poi una continuità finale però su questo aspetto voi veramente nel momento che vi conoscete almeno un po' sapete quando e dove potete dare il meglio di voi perché una volta che entrate noi siamo assolutamente disponibili a darvi permesso studio a non farmi magari uscire tardi appunto se c'è un esame in preparazione se avete ovviamente un incontro con i docenti però il tirocino full time quindi vi richiede se non 8 ore magari 9 ore al giorno noi cerchiamo sempre quindi non è che se appunto quel momento in cui ci incontriamo ci parliamo è un treno che perdete ovvio noi siamo ben contenti che voi entriate e che riusciate a far parte della squadra però con estrema onestà come ho detto a molti vostri colleghi durante il colloquio preferiamo appunto una persona che sa di esserci con la testa anche e di riuscire a lavorare bene piuttosto che appunto una persona che dopo x tempo ci abbandona abbiamo fatto un investimento entrambi e purtroppo quello non era il momento giusto quindi le opzioni sono queste noi vi chiediamo l'iscrizione sia all'alvo dei dottori commercialisti sia ai revisori regali e avrete un contratto di tirocino professionale fino a quando vi abiliterete ai dottori commercialisti e quindi vi sarei chiesto di aprire la partita IVA fino a quel momento voi avrete un compenso fisso più i ticket che vi vengono erogati più un master che è un master di Euroconference che lo studio vi sovvenziona nella durata da ottobre a maggio viene fatto il venerdì pomeriggio e il sabato tutto il giorno a settimane alterne e tratta tutto quello che è il mondo fiscale vuole un po' essere un supporto per appunto la preparazione dell'esame perché appunto prima era in procinto a quella che era la prova adesso non si saprà un po' come saranno gestite però vi confermiamo che il master anche ad oggi viene fatto in formulo ovviamente online purtroppo quello era un po' anche un modo per conoscere gli altri colleghi però comunque prosegue e va avanti e viene gestito sia da risorse dello studio quindi professionisti che vi presentano dei casi pratici come vi spiegava prima il dottor Neri abbiamo delle figure appunto di spicco per diverse tematiche quindi non so in quel caso magari viene invitato un professionista dedicato alla parte più IVA e quindi si approntano dei casi specifici insieme e poi una parte più teorica invece dai docenti di Euroconference e questo viene fatto è un po' il primo approccio alla formazione viene fatto un secondo master sempre di Euroconference per i colleghi che hanno dai tre quindi con entrambe le abitazioni ai cinque anni e insieme vengono fatti tutti i corsi quindi corsi di aggiornamento corsi ovviamente legati all'ordine corsi interni ovvero vengono realizzate delle sorte di task force per capirci su determinate tematiche era stato organizzato ad esempio per il patent box adesso sono stati organizzati per il super bonus quindi come funziona ci sono dei colleghi che vengono scelti all'interno del studio che si occupano di approfondire queste tematiche specifiche e poi di condividerle con gli altri colleghi quindi questo in un'ottica appunto di crescita anche all'interno dello studio a bar riconoscimento perché comunque diventate un po' anche voi dei referenti per quelle che sono delle novità importanti da poter comunicare e condividere con gli altri quindi i corsi sono appunto a 360 gradi ma ovviamente la formazione più importante che farete è quella di job come mi spiegava prima il dottor Neri la nostra struttura è una struttura molto classica piramidale che viene ripetuta all'interno di tutti i gruppi di lavoro i gruppi di lavoro sono costituiti da circa tra una decina e una quindicina di risorse dove abbiamo a capo il partner i associati i senior consultant e i trainee il primo riporto quindi che voi avrete sarà il vostro senior che è una persona che ha almeno tre anni di esperienza e che va a sua volta a gestire da una tra risorse e sarà di fatto la prima persona con cui andrete a lavorare concretamente i primi tempi poi sicuramente il vostro associato e poi un po' alla volta anche con il vostro partner però appunto sulle questioni diciamo base quindi che state appunto imparando su cui vi state mettendo un po' in linea sarà la prima persona oltre ovviamente i vostri colleghi che magari sono dentro il studio da un annetto e quindi sicuramente qualche cosa anche da loro potrete imparare come viene fatto il passaggio da uno step all'altro vengono fatti dei colloqui di valutazione a gennaio con il vostro associato e con il vostro partner di riferimento dove viene fatto un attimo una review di quello che è stato l'anno quindi si capisce insieme se ci sono problemi se ci sono questioni da chiarire se invece è andato tutto bene e in quella fase quindi verrà dove vengono definite anche i vostri KPI perché ovviamente ci sono anche quelli e il vostro poi eventualmente poi bonus più avanti quando poi inizierete a crescere professionalmente viene anche appunto meno definita poi la promozione quindi i passaggi non sono definiti per seniority per anzianità all'interno dello studio quindi non è automatico che dopo tre anni quattro anni uno diventi senior consultant o dopo dieci anni diventi associato ma noi abbiamo appunto le persone in studio che hanno 38 anni 40 che sono già partner come abbiamo delle risorse in studio che hanno 45-50 anni che sono senior consultant perché hanno fatto dei percorsi diversi quindi entrambi assolutamente validi ma con appunto delle crescite professionali molto differenti tra di loro il vostro partner avrà un portafoglio clienti all'interno del quale è molto variegato quindi ci possono essere aziende ad esempio farmaceutica piuttosto che lusso telecomunicazioni quindi settori molto ampi e tendenzialmente sono tutte multinazionali o grandi gruppi e società quotate quindi per noi so che è un po' scontato dirlo però l'inglese è importante non chiediamo delle certificazioni non chiediamo delle appunto qualche documentazione particolare non è obbligatorio aver fatto l'erasmus piuttosto che esperienza all'estero però è importante avere almeno un B2 che sia un B2 reale perché appunto ci serve per andare a costruire un passetto alla volta con voi sulla parte invece di business quella più tecnica noi facciamo i corsi studio però sono corsi per i senior quindi chi è già un po' autonomo sulla gestione del lavoro riesce a gestirsi i clienti riesce a staccarsi due o tre ore quelle che servono per appunto dedicarsi a questa attività non sono obbligatorie i corsi d'inglese lo fa chi vuole chi ha necessità di migliorare quindi assolutamente liberi però appunto vi dico non è non è una cosa che viene subito quindi appunto ci serve una base per poi andare a costruire tutto il resto ma soprattutto come diciamo anche durante i colloqui è importante in primis per voi perché se a parità di situazione a parità appunto di seniority entra un vostro collega che sa l'inglese per x motivi meglio di voi purtroppo sarà coinvolto probabilmente molto più maggiormente ma più maggiormente magari no molto di più rispetto appunto a voi che dovete magari andare ad ampliare appunto l'inglese quindi serve a voi per crescere professionalmente l'inglese viene valutato comunque c'è una parte di valutazione che noi inseriamo all'interno dell'iter di selezione che funziona così allora si fa un primo step con me e le ottoneri ed è una chiacchierata direi prevalentemente informale quindi dove vogliamo conoscervi sapere la vostra esperienza sapere le vostre aspettative che cosa vi aspettate anche dallo studio e un po' di fatto una ripetizione di quello che vi sto raccontando adesso e di quello che vi ha raccontato prima a lui dopodiché vi inviamo una volta li facevamo qua in studio direttamente adesso ovviamente non più un test tecnico un test tecnico verte su quattro tematiche quattro temi diritto tributario diritto commerciale contabilità e inglese per diritto tributario e commerciale sono dieci crocette ah risposta multipla contabilità sono quattro scritture e inglese sono 35 domande sempre a crocette ci serve almeno la sufficienza quindi che voi rispondiate giusto almeno a metà dei quesiti che insieme appunto a quello che è il nostro primo colloquio insieme sarà un po' il la presentazione che noi faremo a uno dei partner appunto che in quel momento starà cercando il test non ci dà un'idea se una persona è dentro o fuori ci dà l'idea però di di capire qual è il livello di partenza ovvio che non so neanche a dirvelo mi sembra scontato che se uno mi fa nove errori in tributario dieci errori in commerciale contabilità va nulla cioè io posso dirvi quello che volete però comunque è difficile andare a costruire un percorso insieme sicuramente ci si può risentire in futuro non è il vostro caso però ci sono capitati anche casi così quindi su dei casi eclatanti ci si riaggiorna ecco il resto veramente viene fatta una valutazione a 360 gradi dove il test rappresenta appunto un 30% di quello che poi noi presentiamo al partner l'ultimo step è proprio il colloquio con lui o lei quindi sempre in questo momento in video purtroppo viene fatto un colloquio ed è l'occasione più corretta per fare domande rispetto al team di lavoro rispetto ai clienti in cui ci si interfaccia rispetto non lo so orari piuttosto che qualche tematica molto più dei bei dei orari ovviamente non ve li dirà mai nessuno perché come ben saprete in studio si entra e tendenzialmente non si esce prima delle 7-7 e mezza però appunto salvo come diceva prima il dottor Neri delle urgenze siamo i primi che cerchiamo di lasciare la libertà ovviamente di avere una vita al di fuori perché non fatevi inglobare solo dal lavoro in questo momento non vogliamo soprattutto che questo accada quindi appunto superato questo step se fosse positivo e se ovviamente c'è un feedback positivo anche da parte vostra si procede con l'offerta se non fosse positivo da parte del partner cerchiamo sempre di dare due o tre opzioni nel senso che può essere la maggior parte dei casi funziona così cioè capita così che su Milano ad esempio ad oggi abbiamo tre ricerche su Roma ne abbiamo tre può succedere che non nasca un feeling subito con uno dei partner però magari può nascere con un altro quindi cerchiamo di ripresentarvi ad un altro partner tendenzialmente facciamo massimo tre colloqui se anche col terzo non dovesse andare bene ci riaggiorniamo assolutamente per il futuro rispetto invece le sedi estere quindi che appunto vi ha vi ha detto prima che oggi sono Londra Pecchino Hong Kong e Shanghai non facciamo vi racconto questa cosa qui subito gli scambi ma sono in previsione da figure che hanno almeno cinque anni di esperienza questo per due motivi molto semplici uno perché sempre un po' per la tematica dell'inglese che vi anticipavo prima ci teniamo che si inizi a creare una base solida qua per poi andare appunto eventualmente poi interfacciarvi con i colleghi esteri e seconda cosa ci teniamo allo stesso modo che voi abbiate prima una base solida di quella che è la fiscalità appunto la parte legale l'accountant quello che è quello che sarà nazionale per poi interfacciarvi con l'internazionale quindi c'è assolutamente la possibilità di fare dei periodi nelle nostre segni o i nostri corrispondenti in Europa che praticamente è come se fossero degli studi Pirola ma con le stesse dimensioni con le stesse approcci al lavoro e tutto quanto però appunto sull'Europa o su altre sedi però chiediamo appunto almeno una seniority di 5 anni e poi facciamo delle valutazioni interne per capire appunto anche in questo caso chi può dare diciamo il meglio in questa esperienza e chi invece magari aspetta semplicemente un altro anno per poter appunto affrontare questo scambio rispetto una tematica molto ricorrente che ovviamente immagino mi interesserà è quella della situazione attuale ve l'anticipo nel senso che come stiamo gestendo la pandemia allora noi siamo siamo rimasti ovviamente chiusi durante appunto tutto il periodo di chiusure siamo rientrati però in studio da metà giugno a fine giugno un po' alla volta cosa vuol dire che noi abbiamo la fortuna se volete in questo caso di non avere gli open space ma di avere ancora le stanze dove lavorano all'interno due, tre massimo massimo quelle più grosse ma sono veramente poche quattro persone quindi cosa succede stiamo facendo semplicemente smart working alternandoci con le risorse per ora vi dico stiamo ancora riuscendo a gestire tutto nel migliore dei casi ovviamente con tutte quelle che sono le norme a parte la temperatura ovviamente all'ingresso abbiamo il plex sulle scrivanie ci sono la sanificazione praticamente tutti i giorni quindi stiamo cercando ovviamente di essere in studio il più possibile perché purtroppo abbiamo visto soprattutto per i ragazzi e le ragazze che hanno iniziato il 9 di marzo che sono dovuti praticamente tornare a casa dopo aver preso il materiale in studio che è stato veramente tosto io non so se qualcuno di voi ha avuto esperienza di stage piuttosto che durante il lockdown e purtroppo sia parte appunto trainee sia parte interna si fa una gran fatica almeno all'inizio poi è gestibile nel senso che chi è senior chi è già appunto non parliamo ovviamente associati e partner è tutto molto più fattibile c'è un ritmo di lavoro una come dire una velocità e un'autonomia ovviamente diversa però per chi all'inizio anche banalmente per conoscere i propri colleghi non è per niente facile quindi stiamo cercando di per chi entra alternare appunto cioè mantenere siamo sulle stesse orari le stesse giornate il signor di riferimento e il training di riferimento o comunque una figura più senior che possa seguirlo per non entrare qua e essere in balia di nessuno e non poter appunto avere la formazione necessaria che serve vi aggiungo solo un ultimo pezzo che mi è venuto in mente rispetto alle attività e studio che appunto come vi consigliava il dottor Neri vi esorto anch'io a vedere il sito a vedere un po' i professionisti cosa facciamo se vi può se vi può interessare noi abbiamo rispetto alla tematica appunto della service line quindi vi confermo che la formazione è a 360 gradi quindi sui clienti in toto quindi dall'A alla Z per tutto quello che c'è di ordinario e per tutto quello che c'è di straordinario c'è solo un team che fa eccezione che è quello appunto legato alle persone fisiche quindi se voi foste interessati al team di persone fisiche di eventualmente segnalarcelo perché appunto ci sono delle c'è un team solo che se ne occupa e quindi segnaliamo poi dopo aver fatto appunto gli step di cui vi anticipavo prima il vostro curriculum ai partner di riferimento tutto il resto invece è societario che può andare come vi dicevo prima su tantissimi settori diversi io credo di non dovervi dire più niente quindi lascerei spazio alle vostre domande curiosità anche quelle che pensate siano più banali non lo sono felici di potervi rispondere tanto avete la chat per scrivere no Veronica c'è la possibilità di di intraprendere una carriera legale sì scusate io in realtà ho dato per scontato il legale fiscale come se fossero entrambe assolutamente sì mia colpa scusatemi e cambia solo l'aspetto diciamo quindi tutto quello che vi ho raccontato è identico anche per gli avvocati quindi l'iter di selezione non si fa il test tecnico di cui vi ho raccontato ma si fa la parte tecnica direttamente con l'avvocato di riferimento ci sono anche lì ci sono una sorta come dire di specializzazione quindi abbiamo l'avvocato che si occupa del corporate chi delle mnei chi appunto dell'aeronautico chi giusti lavorista quindi anche lì abbiamo diversi diciamo ambiti non si fa il tirocini cioè non c'è un ingresso con un tirocini professionale ma c'è direttamente con la parte paiva quindi da lì si svolge tutto il praticantato ovviamente c'è la possibilità poi anche in questo caso di proseguire il percorso all'interno dello studio quindi il nostro obiettivo non è quello di avervi qua per la pratica e poi di perdervi anzi sarebbe molto bello riuscire ovviamente se ci sono le condizioni di avervi con noi il più tempo possibile insieme anche dopo quindi assolutamente sì Veronica perdonami mia le informazioni professionale però l'avvocato e la parte legal assolutamente c'è la possibilità sto leggendo non te le ultime se le citate come se allora Stefano rispetto agli scambi allora noi abbiamo avuto dei ragazzi che sono andati a lavorare all'estero permanentemente e che tornano qua ogni tanto e no qua dall'estero viceversa no quindi sì nel senso che ci devono essere più che altro in questo caso si fanno le condizioni per cui una delle sedi di cui ti parlavo prima stiano cercando nel senso che ipotizzo se la sede di Londra è satura in quel momento non hanno bisogno di risorse magari abbiamo più difficoltà a pensare a un tuo trasferimento ecco definitivo però se ci sono le condizioni ma questo può succedere anche dalla sede di Verona alla sede di Roma cioè piuttosto che perdere una risorsa meglio allora valutare insieme se ci sono delle esigenze professionali personali di valutare un trasferimento da una sede all'altra piuttosto che ovviamente perdere una risorsa che per noi è importante e no ovviamente anche le formazioni all'estero benvengano ragazzi cioè allora ho sentito oggi un ragazzo che è un vostro collega che mi ha fatto esattamente questa domanda se fare il master all'estero o il master in bocconi allora noi siamo assolutamente aperti a ogni tipo di formazione non non valutiamo in questo modo la bocconi sì questa no cioè la formazione è importante ma in questo momento quello che ho detto anche al vostro collega è importante che dal momento che come vi diceva il dottor Neri poi la formazione è una cosa il lavoro è un'altra scegliate quello che vi sentite maggiormente nelle vostre corde e che vi interessa di più quindi se in questo momento il tuo desiderio è andare all'estero è un'esperienza bellissima poi ripeto noi non è che valutiamo che se tu non hai l'Erasmus o se non hai fatto niente al destero allora non conta niente cioè vale allo stesso modo di una persona che ha fatto un percorso all'interno dell'Italia o a Milano o dove quindi è più una secondo me è una bellissima esperienza più per voi ecco che noi come studio non siamo uno di quegli studi che dice ah se non hai fatto niente al destero per me sei fuori non hai 105 per me sei fuori cioè la valutazione me l'ha fatta su tanti aspetti spero di avverti risposto allora Maria Carlo allora la candidatura si può presentare sia tramite LinkedIn che se seguite la nostra pagina vedete che ci sono delle posizioni aperte sia tramite il nostro sito c'è una sezione che si chiama Careers e lì ci si può applicare oppure io vi scrivo qua la mia mail che vi scrivo in chat che se volete mandarmela me la potete mandare tranquillamente arrivo ok allora ok questa è la mia mail quindi se volete mandarmi le candidature anche direttamente qui o se ci fossero altre questioni che volete approfondire volentieri ci aggiorniamo allora Caterina allora sì Caterina è possibile è quello che ti dicevo un po' prima allora per noi colloqui li possiamo fare e li facciamo praticamente tutti i giorni capendo ovviamente al momento che non c'è scritto direttamente o qualche volta su CV la disponibilità quando siete disponibili quindi cosa succede se noi facciamo il colloquio il 30 di ottobre io ti posso dire appunto a Milano sono altre parti che sta cercando a Roma ce ne sono altre tre a Firenze ce n'è uno perfetto se noi facciamo il colloquio il 30 di ottobre la tua disponibilità è per gennaio capiremo poi a gennaio che tipo di esigenze ci sono da parte dei partner non è detto che siano le stesse potrebbero essere partner diversi quello che appunto noi non facciamo è avere dei mesi in cui facciamo delle selezioni e dei mesi vuoti tendenzialmente cerchiamo sempre risorse quindi non è che abbiamo appunto marzo cerchiamo aprile no quindi assolutamente ci possiamo poi riaggiornare per quello che sarà in qualche momento succede anche a terza opzione che ci sono dei ragazzi che magari ho sentito a ottobre ma sono disponibili a gennaio hanno già 4 offerte in mano ipotizzo per chiudere scusatemi l'iter in prima possibile facciamo comunque il colloquio e se tutto va bene blocchiamo già per il partner che sappiamo già che sta cercando per gennaio quindi può succedere anche questa cosa allora Giulia allora potete Giulia puoi inviarci tranquillamente la tua candidatura ora dicendoci che sei disponibile per luglio ma non me ne vogliatene descrivetemi a giugno perché magari appunto mi perdo io si perde il dottor Neri che ne riceviamo talmente tante che magari appunto ce la ricordiamo però può succedere che magari ci sfuga ecco quindi assolutamente sì ci puoi mandare il cb se fa parte di uno di quelli che tendenzialmente ecco no tendenzialmente se voi mi mandate il cb potremmo sicuramente fare una chiacchierata noi però se la candidatura poi è finalizzata a un periodo come luglio o comunque nei mesi successivi vi facciamo incontrare poi il partner che starà cercando diciamo in quel periodo lì cioè non vi faccio incontrare un partner oggi che ripeto è quello che sta cercando oggi ma a luglio non sai anche cosa succederà quindi assolutamente sì l'importante è che mi spammate di mail perché può essere che magari io non mi ricordo tutto quanto ma voi siete autorizzati a farlo a ricordarmelo Danila allora oggi sulla parte legale stiamo cercando una figura junior per la parte corporate sempre 360 con poi l'idea di legarla legarla in senso che sia un po' più specifica sulla parte stragiudiziale quindi questa è una posizione teoricamente avevamo quella legata al 231 che abbiamo chiuso e quindi non è più aperta però sulle figure junior quello che vi dico è che se vi interessa noi spesso appunto può anche capitare che anche se ci sono delle posizioni dichiaratamente aperte ci sono dei profili interessanti se il colloquio è stato particolarmente brillante comunque segnaliamo il candidato la candidata al partner di riferimento e poi può essere che magari si cerchi appunto un inserimento oppure magari non è quello il momento però su legal in questo momento è questa opportunità qua sulla parte tecnica scusami non ti ho risposto allora sulle figure junior tendenzialmente viene fatto magari una domanda sulla tesi che state svolgendo che avete svolto o su magari un esame particolare ovviamente se l'esperienza inizia di essere 1, 2, 3 anni vengono fatte domande legate a attività svolte durante il terocinio piuttosto che durante appunto al termine di terocinio durante il lavoro in generale però non esiste appunto un test scritto se era poi il partner di riferimento ripeto se è corporate vi farà domande legate al corporate se è M&A legata a quest'ambito qua però sono domande a cui voi sapete rispondere ecco perché sono domande tendenzialmente molto basiche come vi dicevo prima ha la stessa funzione di pollo tributario per capire il vostro livello di partenza ecco Alessia ma allora quello che vi posso dire che è un po' quello che notiamo anche anche noi durante i colloqui sono sicuramente l'entusiasmo e la voglia di fare che sono frasi un po' dette così cioè sembrano un po' frasi fatte però vi assicuro che purtroppo si palesa cioè abbastanza facilmente nel senso che non io lo capisco perché sono abbastanza vostra coetanea e capisco che avere le idee chiare fuori dall'università finita l'università è difficilissimo non è per niente scontato e sciopo a chi ce ne ha però un conto è dire far trasparire il fatto che si sta un po' trascinando questa idea di fare l'esame di stato di fare la pratica eccetera un conto è dire cioè so almeno che voglio fare questa cosa poi appunto almeno ci provo e sono convinto di provarci se poi capisco dopo tre anni quattro anni sei mesi che non hanno strada amici come prima però almeno avere un serio interesse di provarci quello sì e vi assicuro che traspare quindi si capisce abbastanza velocemente non è tanto perché vi assicuro che sulle figure junior come potreste essere voi a me non interessa che sappiate i codici a memoria perché non è quello che andiamo a valutare ma è proprio l'approccio alla come dire non alla vita però alle attività anche magari veramente quello che avete fatto al di fuori cioè l'entusiasmo che avete nell'imparare che potreste avere nell'imparare nuove cose e purtroppo ci vuole anche un po' di spirito di sacrificio che non è che si testa con un colloquio però si capisce quando c'è voglia e quando non c'è quindi a noi questo importa e lo valutiamo ed è importante la laurea no no Veronica assolutamente no nel senso che non devi attendere la laurea puoi candidarti tranquillamente come ti dicevo prima è più un discorso che riguarda te di quello che ti senti di fare e di quello che hai voglia di fare tu quindi se ti senti che vuoi provare a fare il tirocinio con due esami e la laurea suppongo che stai scrivendo o si stai ultimando ben volentieri ti ho spiegato un attimo appunto qual è l'opportunità d'oggi però ripeto facciamo un passaggio eventualmente con uno dei partner interessato per il tuo ambito come potete immaginare capire questo purtroppo non è un momento facile per voi che vi state appunto laureando interfacciando sul mondo del lavoro però abbiate fede che ce la faremo assolutamente tutti quanti quindi se vuoi mandarci la candidatura ben accetta Beatrice per me l'attenzione no allora Beatrice come dicevamo prima non c'è dal giorno uno una scelta di come dire di specializzazione però è un po' diverso rispetto a quello che è per la parte tributaria ovvero per il legale noi abbiamo ti faremo fare un colloquio con l'esempio appunto il partner che si occupa di societario quindi quel partner lì fa societario quindi voi farete tutto quello che concerne anche l'utilizzo piuttosto che l'interfaccerete anche con altri colleghi però è legato un po' di più a questo mondo ecco piuttosto che una persona piuttosto che un partner che è legato al mondo labor e quindi vedrete più la parte del lavoro e c'è un ambito diciamo di riferimento ci serve sulla parte legale non ci serve poi non so la specificità dell'attività però dentro la parte level per capirci dentro la parte compliance ci sono dei colleghi che fanno privacy IP cioè ci sono poi dei micro settori però sapere che tu vuoi fare la parte diciamo compliance quello sì ci interessa perché se no facciamo fatica poi a farti colloqui con i partner giusti il colloquio tecnico come dicevo prima è un colloquio appunto che potrebbe essere rispetto a quello che sono appunto la tua tesi rispetto degli esami rispetto a qualche domanda magari un po' più specifica però non è niente di trascendentale sapendo ripeto che siete figure giovani che devono essere formate e cresciute Valentina eh Valentina onestamente non so aiutarti cioè ti direi una stupidata se ti dicessi che tra una settimana 10 giorni e un mese si aprisse una posizione antitrust e ti direi una bugia soprattutto quindi quello che ti dico è se vuoi provare comunque a controllare il sito o controllare la pagina LinkedIn molto volentieri se dovesse sapersi noi sicuramente la mettiamo sulla sezione careers però purtroppo ad oggi mi è cioè guarda mi è proprio difficile pianificare un po' tutto dire che la specificità della posizione purtroppo mi spiace ma non riesco cioè veramente ti direi una stupidata nessun problema Beatrice scusate io intanto leggo non è che ok no no sono per corporate lawyer sia quelli di neoavvocati sia laureandi che neolaureati quindi ci interessa in questo caso una seniority di un massimo di 4 anni 3-4 anni non di più perché poi diventa un po' troppo senior rispetto al processo di formazione che abbiamo pensato quindi assolutamente sì tutte le opzioni che mi hai dato van benissimo ah Giulia allora ma allora quello che vi posso dire è che ad esempio che se voi fate una tesi sul diritto di famiglia noi purtroppo su quello non siamo esattamente uno studio più ferrato ecco se voi volete fare questo aspetto qua e anche ci stiamo sempre un po' di più occupando sulla parte fallimentare però non è neanche questo il nostro core business quindi se pensate di fare una tesi su tematiche che vedendo appunto il sito non riscontrate non è che ci dice sì e no però se come dire esplicita un vostro interesse controllate che è una materia che ne trattiamo non è che per noi se se voi fate appunto il diritto di famiglia è un no ecco dentro lo studio però dovete essere consci del fatto che non facendolo poi se voi vi immaginate questo futuro purtroppo non riusciamo a venirci incontro a livello professionale adesso scusami ma non ho capito il livello di difficoltà rispetto a che cosa se ve lo specifichi allora offrite consulenza sia in materia di poste dirette tutto tutto Gian Maria quindi la parte tributario si vede tutto indistintamente dipende come dicevamo prima dalle esigenze del cliente se il tuo cliente ha particolari tematiche su IRE SIVA IRPEF eccetera ovviamente poi tu fai tutta la parte ordinaria mensile quindi queste cose appunto poi le vedrai però le tematiche diciamo base le affronti tutte su quello che c'è appunto di straordinario dipende esattamente legato alla vita dei vostri clienti come potrei immaginare adesso sulle operazioni straordinarie non è che ce ne siano cioè appunto il dottor Neri ve ne ha raccontato un paio però ovviamente in questo momento sono un po' calate però tutta la parte ordinaria sta proseguendo poi immagino mi metto un po' nei vostri panni che comunque anche vedere l'ordinario avere una base capire un po' come funziona è tutto comunque in questo momento di guadagnato anche per capire in un secondo momento se c'è un aspetto che vi piace di più un aspetto che vi piace di meno se vi sentite più forti potete diciamo crescere non so sull'IVA allora sapete che magari nel vostro futuro vi potreste dedicare a questo avete anche un esame di stato da affrontare quindi l'idea di fare transfer pricing otto ore al giorno pensate che poi c'è tutto un mondo che voi non state affrontando e vedendo in quel momento quindi anche questo è importante però assolutamente queste tematiche le vedrai adesso magari non dal giorno 1 però un po' alla volta quello che noi cerchiamo di fare è mettere le persone appunto al pc sul file sul cliente fin da subito adesso non si può portare nessuno ma i ragazzi dopo 2-3 mesi ovviamente chi si poteva farlo venivano portati a riunione col cliente quindi cioè è una formazione veramente sul campo c'è molta teorica ma lo sapete è la scelta che avete fatto però è veramente proprio day by day tutti i tassilini che state mettendo insieme allora ah ok del test di tributario è una domanda no più che altro è una domanda difficile da darti una risposta nel senso che posso dirti io di casi eclatanti di errori tremendi ne ho visti cioè come ti dicevo 8 errori 9 errori ne ho visti veramente un paio il resto assolutamente nella media se voi avete ripeto una sufficienza su tutto per noi non c'è problema se ci sono 6 errori in commerciale e 3 in tributare va bene uguale è un test fatto apposta per valutare il vostro livello di partenza quindi voi dovreste essere in grado assolutamente di rispondere alle domande magari non a tutte assolutamente anche perché le domande ruota non sono mai le stesse perché è ovviamente fatto a casa e quindi non era fattibile ripeterle però anche in inglese sono domande a cui voi dovreste essere ripeto se avete un livello che è un B1 o un B2 assolutamente in grado di rispondere poi non ci soffermiamo sul test valutiamo la persona e tutto quanto capiamo capiamo insieme se ci sono appunto le domande difficili che magari cambia anche la normativa nel mento cioè succede anche questo spesso magari se la persona comunque ci è piaciuta particolarmente rivediamo insieme il test per capire se è stato l'ansia che gioca anche questo a un fattore da non sottovalutare o se ci sono invece altri tipi di tematiche quindi fatelo si fa in un'ora quindi prendetevi un'ora fatelo assolutamente nella maniera più tranquilla che potete non angusciatevi per il test perché ripeto la valutazione avviene a 360 gradi ci interessa anche voi come persona e poi il test sì Melissa ti confermo la parte fallimentare è meno trattata rispetto a molti altri ambiti invece su cui noi siamo sicuramente più forti ecco che trattiamo di più non è che non venga trattata mai viene trattata meno o meno occasioni però ripeto se tu vuoi fare fallimentare H24 ecco purtroppo noi in questo caso non sappiamo esserti d'aiuto quello no se vuoi vedere fallimentare e anche altro allora quello si può fare domande in inglese Francesco sono classiche domande tipo da test del liceo metti le parole mancanti leggi una lettera capisci il senso della lettera ci sono delle domande riferite a un'email ci sono delle domande a cui bisogna rispondere ma è tutto a crocette cioè sono proprio i classici test università barra liceo cioè su tematiche non sono di business sono tematiche proprio random inventate allora allora Beatrice funziona così sì appunto la parte compliance cioè la parte P è dentro compliance ma vi come dire se siete interessate a un ambito particolare e ci siamo comunque parlati e visti scrivetemi tranquillamente una mail dove ripeto noi possiamo fare un passaggio con il partner perché noi le posizioni le pubblichiamo però magari appunto sappiamo che un partner in particolare stava cercando abbiamo delle posizioni molto generiche perché come vi spiegavamo prima noi abbiamo i team specializzati per fare solo quelle attività lì quindi se voi siete speciali se voi scusate siete interessati e nella mail nella candidatura magari non c'è lo spazio per scrivere la vostra specializzazione mandatemi la mail dicendomi sono interessato all'IP e alla privacy e io faccio eventualmente appunto un passaggio con il partner di riferimento ah sì assolutamente sì il test online è sempre in inglese eh sì ciao il test in inglese è sempre online per il passaggio interno assolutamente sì ne abbiamo fatti e ne facciamo anche tra una struttura e l'altra ovvero come vi diceva prima il dottor Nelli noi abbiamo anche una parte di accountant che è ancora separata da una parte studio una parte corporate finance e una parte di audit è successo anche che i ragazzi volessero passare dall'accountant allo studio e viceversa e abbiamo fatto dei passaggi interni quello sì ehm quello che noi vi preghiamo di fare è almeno di provare di fatto appunto che eh l'ambito cioè di darvi il tempo più che altro di capire se l'ambito mi possa interessare o meno e quindi valutare bene un passaggio e fare una scelta ponderata perché ovviamente non è che possiamo fare avanti e indietro il play team ehm altrimenti ben ben ecco cioè si può si può valutare sempre ovviamente allora ehm l'idea è quella di riuscire ovviamente a tenere la maggior parte delle persone possibile evitare che le persone escano si spera sempre che in quel momento ci sia spazio nel team ecco quindi eh prima di prendere qualsiasi decisione di uscire di andare a città le altre opportunità di vederli incontro ehm di vedermi in giro fate un passaggio come è eventualmente il dottor Neri perché almeno capiamo insieme quali disponibilità ci possano essere all'interno dello studio quali tipi di ehm appunto cambiamenti possiamo fare insieme piuttosto che appunto uscire da qua perché per noi è molto più importante avere una persona formata comunque da noi dove bisogna fare diciamo una un'eventuale formazione però un po' già la forma mentis diciamo studio piuttosto che prenderla una dall'esterno su cui bisogna iniziare da zero prego ragazzi allora attualmente posizioni aperte legali su Torino non ci sono se vuoi comunque provare a mandarmi il cv Francesco posso provare a fare un passaggio a capire se eventualmente possono valutarlo però dichiaratamente aperte non hanno richiesto appunto nulla dal momento che passano tutte da qua la maggior parte da me a due torneri quindi non ci hanno fatto richiesta se vuoi possiamo appunto fare un un giro cv e capire se può essere di di loro interesse e poi eventualmente fissare un colloquio quello molto voglio dire allora e magari a Carla un po' quello che diciamo quello allora quello che dico anche un po' ai ragazzi che vedo colloquio è anche un po' questo dovete sentirmela un po' voi il tipo di approccio nel senso che allora le big four sono le big four e ovviamente i ragazzi sono dei colossi quindi non è che possiamo dire che non funzionano o che il loro approccio sia sbagliato e ci sono molte persone che noi abbiamo incontrato che ci hanno detto no io voglio fare M&A e basta solo M&A perfetto cioè la big four è il tuo mondo perché tu fai quella cosa lì e solo quella cosa lì ottimo però non tutti sono così magari appunto c'è chi è indeciso su quello che vuole fare su chi appunto non sa che cosa c'è al di fuori e quindi preferisce un po' vedere tutto e poi poter scegliere perché non è obbligatorio neanche scegliere di specializzarsi liberi tutti anche su questo aspetto però di poter scegliere in un secondo momento e quindi l'approccio diciamo più pirola ovviamente può funzionare di più però anche questo è dovete sentirvelo un po' voi sempre sempre capendo che se vi scende all'università le idee sono tante confuse però se non avete trovato probabilmente una materia che vi strappate i capelli per farla per sempre comunque allora magari è meglio un approccio più multidisciplinare se invece avete già trovato l'approccio la materia della vita allora è meglio una before però assolutamente cioè io l'unica cosa che spassionatamente vi posso mi sento di consigliarvi è il fatto di avere l'esame di stato quello non non è di poco importanza ed è impegnativo quindi mandatela voi questa cosa che guardano scusate sto leggendo allora altri che considerano altri che fanno svolgere dei business case di 3-4 anni no allora noi non facciamo né business case di 3-4 anni Stefano allora tendenzialmente ti dico quelli che sono non scritti di fatto allora noi non siamo una onlus quindi infatturato in primis allora poi vi dico anche questa cosa non mi viene chiesto nei tpi di fatturare cioè nel senso non tu Stefano hai di fare 30.000 euro per capirci ma vi viene chiesto che se voi volete crescere dovete fatturare e a un certo punto tra virgolette sganciarvi un po' dal vostro partner dal vostro associato e cercare di costruirvi un portafoglio cliente vostro già comunque con la seniority avete raggiunto un gradino e comunque sapete che lavorare da soli o andare a gestire una o tre risorse vi cambia la vita perché il lavoro sembra molto bello ma in realtà diventa se non doppio o triplo perché oltre al vostro dovete aiutare supportare formare anche le persone sotto e quindi è già un bel impegno però è ovvio ragazzi che se voi volete arrivare a fare i partner e ben venga bisogna avere i clienti e avere dei fatturati e bisogna anche sapersi tenere le persone perché le capacità manageriali sono importanti cioè non sono considerate di secondo valore non è che se voi fatturate 100 miliardi all'anno e avete un turnover del vostro gruppo che esce una persona a settimana va bene cioè vanno valutati tutti gli aspetti vanno valutato tanto appunto le persone che sono in gruppo con voi e che adesso io mi immagino parli nel senso che voi avrete appunto le persone sotto e il turnover di queste è importante per garantire anche continuità ai clienti e per continuare a sviluppare il vostro portofoglio quindi questo sicuramente è un aspetto e sicuramente ragazzi il fatturato è importantissimo però non facciamo business case o ripeto non facciamo come dire che di default Stefano diventa partner o diventa associato perché è dentro da 20 anni in studio piuttosto che 15 ecco questo è un po' l'idea ragazzi io non so se voi avete altre domande dubbi o quant'altro secondo me vi abbiamo abbastanza come dire dato un po' una panoramica di tutto ho visto che mi hanno già scritto un paio di persone quindi assolutamente tenete la mia mail come riferimento quella del dottor Neri è identica alla mia se non che è Luca Punto Neri quindi se volete sentire anche lui senza problemi io vi saluterei se siete che maggio non abbiate o altri webinar da seguire o altri esamini da preparare o tesi da scrivere quindi intanto vi faccio un grande bocca al lupo qualsiasi sia il vostro momento del vostro percorso spero di vedervi di sentirvi presto e niente per qualsiasi cosa sappiate che siamo tutti disponibili per darvi informazioni a presto a tutti grazie a tutti per l'attenzione dell'attenzione che Grazie a tutti